Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Imprunita e Barberino. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Sulla statale 67 Tosco Romagnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve, statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze sono cominciati i lavori di asfaltatura in via Baracca fino a sabato, senso unico da Via Legoria a Via Allori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!